ok eccoci qua genshin impact proseguiamo un attimino da dove ci siamo lasciati ieri allora c'era da fare la missione del tesoro esatto entrare nelle profondità delle rovine vediamo un po' che cosa troviamo qua dentro il tesoro perduto di arcadia benissimo queste sono le ricompense e andiamo avanti il gruppo dirai che va benissimo questo qui va bene facciamolo così vediamo un po che cosa ci cosa ci riserva al futuro giù c'è già un mostro giù di arco ok premo g cosa succede qua caspita premuto g si è giusto il tempo di fare questa missione ok colpito affondato faccio vedere piaccio no via 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 un colpino affatto no si generano no vabbè cosa c'è da inserire un posto così un minuto di tempo per sconchiugere tutti questi mostrini vediamo un po se c'è la si fa aperto anche la porta della resurrezione ma a posto così bene andiamo avanti la giù ci sono delle scatole abbiamo anche queste patate carne a parte della resurrezione pizzo questo deve essere un nuovo alleato mercato nero mercato nero ma loro e i suoi principali stupiti perdonoci che non possono fare una fortuna sono Izzard mi ringrazio a tutti per favore dei sbagliari abbiamo trovato un profilo low, come si è fuori? un basso profilo mi ringrazio a tutti yeah chi c'è? un bel doppiaggio non lo chiamo non lo chiamo ma non c'è nessun trezzo per il principio tu venivi tutta la stanza per niente solo per diventare coso? no trezzo? lui chiede di un po' che c'è nessun trezzo? Ha, mi ha fatto bene. Non pensavo che i knights avrebbero risorto a queste tattiche. Un ufficio non ha il vero di criticare i metodi dei knights di Favola. Aspetta, cosa sei? Non mi prenderai! Ok, oh Dio, che è questo? Non lo volevo dire! Una bella boss fight. Tu, knight! Non mi guarderai morire, tu? Hmm, che un'interessante suggestione. Ok, io confessio e andrò tranquillamente, per favore, aiutami! Non li faccio niente, magari se sono così. G. Ah, ma hanno aggiornato la cosa qua, line guard. Hanno aggiornato l'interfaccia. Ok, i punti deboli sono in mezzo. Si possono andare in vento, tranquillo. Ok, che io devo colpire il nucleo. Ho colpito? Hmm, non è vero. Prendiamo un po'. Cosa facciamo? Ma che scatola? Non ce la faccio proprio. Ma va. Ma che scatola? Non ce la faccio proprio. Ma che scatola? Quanto la faccio proprio. Quanto la faccio proprio. voglio colpire l'occhio finalmente dopo che l'ho colpito paraliggio aggiuntare i punti deboli di nemico questo magari usiamo così ma vabbè magari la maga ci può dare un aiuto così ok mi devo colpire di nuovo il punto debole non stai fermo però non riuscirò mai a colpire ma come oh finalmente the bigger die are e prima vengono sconfitti ok benissimo facile eh facilissimo è facile non forget what you promised or that thing will be the least of your worries hey is this how the nights of favonius treats the people they catch i'm just joking all right let's take him back sir yes sir captain should we take these two in as well of course not they are the ones who made this arrest possible without them spreading our fabricated intel we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders ah you're a bad man for lying to me shame on the nights all right all right stop it already though the treasure doesn't exist you did want it for yourself didn't you otherwise you would have informed me of your intentions no that's what i'm done talking to him just a sec you did help me out so you do deserve a reward this is is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory as its name suggests it symbolizes light and victory if you don't mind i would like to present you with this harbinger of dawn as a reward harbinger of dawn that's right it suits a well-cultured and disciplined person such as yourself wouldn't you say paimon well if the reward is this harbinger of dawn you'd forgive me right i'm honored to have such an understanding friend yes yes you have my apologies for the deception i will not use the same method twice what a wonderful day now i have to go interrogate my suspect please excuse me do come visit me at our headquarters when you have the chance sicuro quindi il dungeon ok fast completed benissimo benissimo bel tesoro qua ok harbinger of dawn prejuice chest plap 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 e anche il video sui ok 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 direi che possiamo andarcene a posto tanto andora magari c'era qualcosa sopra quelle scale non lo saprà mai ebbene e anche questa missione è andata tanto poi sicuramente ci potrà tornare qui avanti una cosa audio tu 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 l'altro di una picchetta ok questo da vedere una cosa adesso dunque 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 questa porta dove si può andare ciao grazie a tutti i sorti ok 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 immagino che queste siano tutte missioni da fare break the board collet not to be in vista ok io non riesco a capire però quali sono le missioni della trama principale ma in queste shadow over monster forse è questa altra un po' ecco qui sono le story perci dritto e poi queste qua penso che sono word e quest che ti danno i npc posso volessi fare questa non potremmo ah però quindi se ora mi credo tra porto qua ne e di tutto il porto 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 ok